E' il momento dell'informazione di Unica TV, questa è l'edizione di Sondrio del nostro telegiornale, ben trovati. Non si trovano assistenti sociali, educatori, operatori socio-sanitari e infermieri. Le cooperative sociali, sondriesi e lecchesi lanciano l'allarme e indagano i motivi con una ricerca su 1.200 addetti. Risultati positivi per il gruppo Banca Popolare di Sondrio nello stress test della Banca Centrale Europea. In entrambi gli scenari ipotizzati fino al 2025 la Banca dimostra la propria solidità patrimoniale. Finisce con una sconfitta per 3 a 1 l'amichevole di esordio della nuova Sondrio Calcio in casa del Monza Primavera. Un buon test per la squadra di mister Fabio Fraschetti a pochi giorni dall'inizio del ritiro. E adesso passiamo alla cronaca. Interventi in montagna e in torrente nel fine settimana per il soccorso alpino. Domenica pomeriggio i tecnici della stazione di Chiavenna sono stati allertati per un infortunio di canyoning nel torrente Mengasca a Samolaco. Una donna di 39 anni ha riportato un forte trauma a una gamba. La conformazione del torrente Mengasca permette l'intervento dell'elicottero solo in punti specifici e quindi è stato necessario intervenire via terra con le squadre per poter trasportare l'infortunata in una zona accessibile al Verricello. Oltre all'elisoccorso di Sondrio sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. L'intervento si è concluso intorno alle 18.30. Nel pomeriggio di domenica un'altra uscita, questa volta a Gerola Alta. Un uomo di 36 anni è caduto mentre cercava funghi con un familiare. ha riportato un trauma al torace e quindi hanno chiesto aiuto. Sono partite subito le squadre territoriali del soccorso alpino, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. L'uomo è stato messo in sicurezza e trasportato in ospedale con l'elisoccorso di Como di Areo, accompagnata a Valle Illesa, la persona che era con lui. E adesso andiamo avanti con i servizi. Una ricerca sociale sovra-provinciale per contrastare le pesanti ricadute della mancanza di forza lavoro sul sistema di welfare locale. È ciò che sostengono Conf Cooperative dell'Adda, Fondazione Comunitaria delle Chiese e Fondazione Pro Valtellina di Sondrio. La ricerca, condotta nelle principali imprese cooperative e in particolare rivolta alle nuove generazioni di professionisti della cura, vuole essere punto di partenza per leggere il fenomeno di carenza di operatori della cura. All'indomani della pandemia le imprese cooperative e sociali dei territori di Lecco e Sondrio si sono trovate di fronte ad una crisi di personale senza precedenti. Non si trovano assistenti sociali, educatori, operatori sociosanitari, infermieri, tanto da lasciare scoperti alcuni servizi. Il sistema della cooperazione sociale Valtellinese e Lecchese ha lanciato il proprio allarme, trovando la condivisione degli enti locali, dell'associazionismo, delle aziende ospedaliere e delle scuole. Conf Cooperative dell'Adda, in sinergia con i propri associati, consorzio con soli da Lecco e Sol Cosondrio, ha introdotto misure volte ad arginare le urgenze più impellenti, ma anche a modificare a medio e lungo termine le condizioni di un fenomeno che è ormai da considerarsi strutturale. Tra queste iniziative il progetto di ricerca sociale sulle professioni di welfare e più in generale dell'economia sociale. Ad occuparsi della ricerca sarà la fondazione Eurix dell'Università di Trento. I costi sono coperti oltre che da Conf Cooperative dell'Adda e dai due consorsi di impresa, dalla Fondazione Comunitaria delle Chiese e dalla Fondazione Pro Valtellina. La carenza di operatori della cura mette a rischio un sistema di welfare e quindi di risposte ai bisogni di chi vive nelle fragilità, afferma la Presidente di Fondazione Comunitaria delle Chiese, Maria Grazia Nasazzi. Come fondazione sosteniamo con convinzione questa iniziativa a fianco di Pro Valtellina. Marco Dell'Acqua, Presidente di Pro Valtellina, sottolinea la carenza di risorse umane con adeguate capacità professionali che può diventare un problema di grande rilevanza. Studiare possibili soluzioni è tra gli obiettivi strategici finalizzati al miglioramento del welfare territoriale e di comunità. La ricerca, dice il Presidente Conf Cooperative dell'Adda, Gabriele Marinoni, pone al centro la risorsa più preziosa che il sistema cooperativo possiede. Ciò è il proprio capitale umano ed è questo il valore principale di questa operazione. Il progetto di ricerca coinvolge 37 cooperative sociali, due consorsi e una impresa sociale per circa 1200 giovani operatori sociali intervistati. Solidità patrimoniale anche in scenario avverso. Questo è il risultato dello stress test della BCE, cui è stato sottoposto il gruppo Banca Popolare di Sondrio insieme ad altri 41 banchi dell'Eurozona. Due, gli scenari macroeconomici prospettati per la simulazione di base e quella avversa, con un orizzonte temporale dal 2023 al 2025. Nel primo, uno sviluppo normale degli affari e nel secondo, un significativo peggioramento delle tensioni geopolitiche internazionali e un grave deterioramento del quadro economico, con previsioni di inflazione elevata e persistente, e di vigorosi rialzi dei tassi di interesse prolungati nel tempo. Come nel passato, la prova di stress è stata condotta in una ipotesi di bilancio statico al 31 dicembre 2022, non tenendo conto degli effetti delle strategie aziendali e di iniziative gestionali future. Nell'ipotesi di base, il gruppo BPS non mostra criticità. Continuerebbe a produrre utili significativi sia per alimentare il patrimonio tramite autofinanziamento, sia per remunerare il capitale apportato dagli azionisti. Nello scenario avverso si registra un'erosione di capitale primario alla fine del triennio 2023-2025, tale da collocare il gruppo sui valori mediani della fascia di impatto, compresa tra i 300 e i 599 punti base, in linea con la riduzione media registrata per le banche vigilate dalla BCE. Un posizionamento, questo, migliore rispetto all'esercizio di Stress Test 2021. Tre serate, la cultura del vino e del buon cibo nel paesaggio in cui questi prodotti nascono e nel centro storico in cui vengono esaltati al meglio. Calici di Stelle torna ai 6, 7 e 10 agosto con alcune novità. Si parte con calici d'autore che si terrà domenica 6 agosto lungo la via dei palazzi, questa è un po' la novità di quest'anno. Abbiamo pensato di organizzare una cena itinerante dove i nostri ospiti potranno quindi godere una serata molto particolare e speciale e appunto vivere una cena lungo queste quattro postazioni. Il tema della serata sarà la cucina di montagna e la serata è affidata al gruppo ristoratori della provincia di Sundrio. La seconda novità è che all'interno del pacchetto di calici di stelle, quindi la classica serata del 10 di agosto con i banchi di degustazione lungo il centro storico, abbiamo inventato un evento dentro l'evento, ovvero un'esperienza che permette di vivere i terrazzamenti, i vini di Valtellina e anche l'astronomia. Nello specifico abbiamo pensato di proporre per un gruppo ristretto di persone, massimo 25 persone, un trekking lungo i terrazzamenti, poi si arriverà in un punto panoramico e ci sarà una lezione affidata ad un astronomo esperto con una degustazione di vini di Valtellina. Calici di stelle, quest'anno è arrivata la 26esima edizione, è diventato l'appuntamento imperdibile. Lo scorso anno siamo riusciti ad avere circa un 2000 presenze sulle tre serate differenti, speriamo di arrivare sempre a confermare questi numeri. Positivo il riscontro sul pubblico, in crescita anche collaborazione tra produttore e attenzione da parte degli esperti del settore. Come ogni anno il periodo estivo l'abbiamo dedicato all'organizzazione del Valtellina Wine Festival, ricco di eventi che si concluderanno nell'ultima settimana di settembre proprio sul territorio di Sondrio e anche ad agosto come ogni anno prevediamo tre serate all'insegna del Nebbiolo delle Alpi appunto e della cucina di montagna. Ci siamo resi conto che l'offerta è interessante, viene vista in maniera positiva dall'utenza, prevederemo tre serate appunto con lo stile dell'aria aperta, della convivialità, della bellezza e della buona cucina e del buon vino. Sono molto contento perché soprattutto negli ultimi anni Consorzio, Strada e tutto il mondo della ristorazione e non solo botteghe, artigiani e quant'altro si sta cercando di muovere in una stessa direzione facendo rete e portando avanti appunto una qualità di un certo livello. La risposta sia da parte del consumatore sia da parte appunto degli operatori e delle guide di settore, mai come in questi ultimi anni è stato importante, ha sottolineato come i nostri produttori stanno andando nella direzione giusta sia della qualità che dell'offerta. L'esordio stagionale della nuova Sondrio Calcio è una sconfitta totalmente in dolore contro la primavera del Monza. L'amichevole disputata sabato a Monzello finisce 3-1 per i padroni di casa, ma gli uomini di mister Fabio Fraschetti, con la preparazione iniziata da meno di una settimana, se la giocano a viso aperto con cinque nuovi acquisti in campo dal primo minuto. Al quinto sono i brianzoli a passare in vantaggio, sfruttando una percussione da sinistra di Ibianai che serve al centro un pallone su cui Ferraris è lesto ad avventarsi anticipando il tentativo di intervento del difensore ospite e insaccando la rete del vantaggio. I biancazzurri non si scompongono e al diciassettesimo arriva il pareggio. Un combattivo risalto indirizza un pallone che proietta muletta davanti al portiere e il giocatore chiave nasco classe 2005 lo supera con un preciso diagonale. La gioia del pareggio dura pochissimo perché è un giro di lancette più tardi e Goffi a sfruttare un errato disimpegno della difesa biancazzurra e superare Alves da distanza ravvicinata. La nuova Sondrio prova a ristabilire la parità al 24esimo quando risalto dapprima si vede respinto un tiro insidioso dal portiere monzese, successivamente sugli sviluppi del corner in patta di testa, trovando comunque Bifulco attento a neutralizzare. Al 38esimo arriva la terza rete dei padroni di casa capaci di sfruttare un altro errore ospite in disimpegno, riconquistare la palla e trovare l'imbucata giusta per Beretta che a tu per tu con Alves non sbaglia. Nella ripresa la nuova Sondrio prova subito a rendersi pericolosa al primo con Gonzalo Scudero che si accentra dalla fascia sinistra e lascia partire un tiro smorzato però da un difensore ospite. Al 13esimo è Pasini a servire Muletta la cui conclusione trova sempre attento Bifulco mentre al 30esimo la morte prova la soluzione dalla distanza senza impensierire Rodriguez. Cinque minuti più tardi Kokuz calcia da buona posizione ma il portiere di casa è pronto alla parata. Le ultime emozioni arrivano nei minuti conclusivi con Bagie che conclude alto da fuori aria e la morte che tira fuori una punizione dai 20 metri. Finisce con una sconfitta per i valtellinesi che domenica saranno di scena in un'altra amichevole a Gallarate per affrontare la città di Varese. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Ecco le notizie che ci arrivano dall'Ecco e Provincia. Partirà alla volta del Gambia la salma del 18enne richiedente asilo annegato Nillario raccolti allo scopo 20.000 euro. La Caritas lancia un progetto a sostegno della sua famiglia. Le società di serie B si uniscono alla Calcio Lecconi la battaglia perché i blu celesti restino fra i cadetti. Insieme al Perugia, Spale e Foggia invece ne chiedono l'estromissione. Parola al Tar del Lazio. Un'impresa titanica per salvare il dipinto di Orlando Sora dalla volta del teatro del sociale e bonificare dall'amianto la struttura. Intervista ai restauratori che hanno curato un intervento senza precedenti. Adesso vediamo insieme i servizi. Dal Gambia uno dei stati più poveri al mondo era partito per cercare un futuro migliore in Gambia grazie alla generosità di tanti lecchesi riposerà. Per sempre la samma di Bubacar Darboel, 18enne gambiano annegato Nellario lo scorso 19 luglio, sarà rimpatriata. Nelle prossime ore Bubacar era arrivato in città dopo un viaggio durante alcuni mesi che dal suo villaggio Farato lo aveva portato ad attraversare il Sahara e il Mediterraneo per giungere a Lampedusa. Ospite della Casa della Carità di Lecco, poche ore dopo il suo arrivo con alcuni connazionali si era recato al lago. La discesa in acqua gli è stata fatale. All'indomani della tragedia Caritas Ambrosiana e Decanato di Lecco hanno avviato una raccolta fordi per finanziare il rimpatrio della salma e consentire il funerale nel luogo di nascita. Oltre a ciò, se possibile, il proposito è quello di realizzare un piccolo segno di solidarietà e speranza a sostegno della famiglia della comunità di origine di Bubacar. A oggi sono stati raccolti 15.000 euro ai quali vanno aggiunti i 1.600 euro offerti nella Basilica di San Nicolò durante la messa domenicale e il contributo del comune di Lecco. L'ammontare complessivo dunque sfiora i 20.000 euro. Dato che il costo del rimpatrio della salma si aggira intorno ai 5.000 euro per impegnare al meglio i fondi restanti, Caritas Ambrosiana sta verificando quale aiuto prevedere per la famiglia del ragazzo e quale progetto realizzare eventualmente per la sua comunità. Conto alla rovescia per quella che sarà una delle giornate più importanti della storia ultracentenaria della Calcio Lecco. Mercoledì 2 agosto il Tribunale Amministrativo del Lazio sarà chiamato a decidere sul ricorso del Lecco contro la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha escluso i Blu Celesti dalla Serie B. La società di Via Don Pozzi difesa dagli avvocati Salvatore De Lorenzis, Domenico Zinnari e Antonio Caiffa avrà degli alleati di peso, in primis proprio la Federazione Italiana Gioco Calcio che ha presentato ricorso al pari dell'Ecco contro la decisione del Collegio di Garanzia. Ma sosterranno la causa dell'Ecco anche il comune e le altre squadre di Serie B che interverranno in udienza ad adiuvandum, cioè in supporto dei Blu Celesti e della loro richiesta di disputare la Serie Cadetta, obiettivo non celato da parte delle altre società di Lega B, quello di preservare il format a 20 squadre. Dall'altra parte il Perugia che chiede di essere riammesso in B a posto proprio dell'Ecco, ma anche Foggia e Spall che ambiscono a fare le scarpe a Perugia e essere ripescate loro. Persino i tifosi del Perugia hanno deciso di intervenire in udienza ad oponendum contro l'Ecco. Gli avvocati Bru Celesti e della Federazione ribadiranno, come già fatto al Collegio di Garanzia, l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta per l'utilizzo dello stadio di Padova in sole 48 ore, stante il mancato slittamento dei termini nonostante lo spostamento in avanti dei play-off di Cidi dieci giorni e dunque di aver avuto condizioni molto più penalizzanti rispetto alle altre società per l'iscrizione. La strategia legale del Perugia farà ancora forza sulla perentorietà prevista dal regolamento redatto dalla stessa FGC, evidenziando come la norma fosse già nota da novembre. Dopo la sentenza del Tar venerdì 4 agosto il Consiglio federale valuterà la data di partenza del campionato, ad oggi prevista ancora per il weekend del 19 agosto, possibile lo slittamento al 2 settembre. Martedì 29 agosto, l'ultimo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato, subito dopo la FGC, ufficializzerà eventuali riammissioni. La fresco del Sora, che poi è un acrilico del Sora, è stato riattaccato uguale a come l'abbiamo staccato, senza aver subito nessun cambiamento e nessun danno. Tanti cittadini che il mese scorso hanno colto l'opportunità di saggiare da vicino i lavori al Teatro Sociale di Lecco, su tutti a catturare l'attenzione la fresco del Sora. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo impegno. Abbiamo stabilito e deciso di staccarlo, ma stacchiamo soltanto le figure, in modo da salvare il necessario e poi bonificato con la collaborazione dell'ASL di Lecco. L'abbiamo poi restaurato in che modo? Abbiamo stuccato solamente le giunture dei pannelli. Quanto tempo ci è voluto? È un lavoro molto delicato, riportare tutto all'origine senza modifiche. Sì, c'è stato un grosso impegno e soprattutto uno studio di materiali da usare, perché ha avuto questo supporto di amianto, ma era un acrilico, quindi tutti i prodotti potevano danneggiarlo. Abbiamo fatto uno studio insieme a dei chimici e ci siamo riusciti. L'impegno è stato abbastanza grosso e anche coraggioso e ci abbiamo impiegato quasi sei mesi. Ma non solo il Sora. Abbiamo fatto dei saggi nel foyer, nei saggi ai palchetti, saggi all'indotto e abbiamo portato fuori lo stato originale, abbiamo portato fuori i dipinti del 1800. E poi il consolidamento strutturale del stradosso e i nuovi canali di aereazione. Adesso quello che c'è da fare è terminare il progetto esecutivo per poi andare a gara a trovare un'impresa che si possa occupare dei lavori che speriamo possano iniziare entro la fine di quest'anno. Abbiamo lanciato anche una campagna, perché questo è proprio il teatro della società, è nato come teatro di tutti, per noi diventa il teatro della comunità. È possibile partecipare con la formula dell'Art Bonus che consente poi di recuperare il 65% della somma versata. Il teatro è anche un po' nostro e per cui chi volesse partecipare è gradito. La busta calbiata è iniziata nel 2013, quest'anno dovrebbe essere stato il decimo anno, ma il Covid ha interrotto per due anni. Comunque grande affluenza di pubblico ogni volta. Siamo partiti nel 2013, questa è l'ottava edizione perché sappiamo tutti che ci sono stati due anni di blackout dovuti a Covid. Ci fa molto piacere vedere sempre un'affluenza consistente, insomma è una manifestazione che inizia ad essere, almeno nella nostra percezione, che sia una manifestazione che inizia ad essere sentita in modo particolare dai galbiatesi, che poi alla fine è il nostro scolo. Ci piace l'idea di fare qualcosa di carino, di interessante per il posto. Qui abbiamo i nostri pubblici esercizi con le loro prelibatezze, si può veramente mangiare di tutto, è inutile fare un elenco perché ce n'avete veramente tantissimo e tutto quello che vedete qui nasce dalle nostre idee. Ovviamente abbiamo bisogno della partecipazione dei pubblici esercizi e ci sono anche artigiani e commercianti che partecipano. Qual è il bello di questa festa? Che si vedono tutti i galbiatesi, ci si incontra e si vede anche gente che viene da fuori e si mangia bene. Una bellissima serata, una bellissima idea, speriamo la ripetano. Come sta andando la serata? Benissimo, spettacolo, il tempo sta reggendo, la gente a Galbiate risponde sempre. Va via a fiumi, la gente sta bevendo molta birra. Birra, compagnia, cose buone da mangiare. Cos'ha gustato qui a gusto a Galbiate? Pizza, pizza e birra. Volevamo mangiare i pizzocri ma sono cose più invernali e allora ci siamo limitati alla normale pizza. Risotto allo scoglio con frutti di mare, poi abbiamo anche calamari, patine fritte e pizza a volontà. È tutta una cosa meravigliosa qua. Vengo da Genova e devo dire che è bellissimo. Questa manifestazione che cresce di anno in anno con grande partecipazione da parte dei nostri pubblici esercizi e anche da alcuni nostri operatori economici come il concessionario d'auto, c'è un artigiano che espone. Oltre quello ci sono molti artigiani che invece ci danno davvero una grossa mano per allestire questa fantastica festa che per il secondo anno si svolge su un intero weekend, quindi sabato e domenica. Un pranzo per dire grazie a chi ha deciso di donare il proprio tempo. A due passi, dal Battello Leonardesco a Inbersago, l'ospici GL Lecco ha invitato tutti i suoi volontari rendendo loro tributo per il fondamentale lavoro svolto ogni giorno. Siamo una bella comunità unita, capace di discutere, capace di preoccuparci anche per le cose che magari non vediamo che vanno come vorremmo, capace anche di tristezza quando perdiamo un accompagno o un compagno di strada. Però oggi è un momento di festa, è un momento per ringraziare, ringraziare un gruppo di volontari numeroso che mette a disposizione il proprio tempo libero e lo fa per stare a fianco a chi ha bisogno, a chi chiede un sostegno. Niente retribuzione, ma una grande soddisfazione che è in tutti loro quella di mettersi a servizio degli altri. Un grande esempio di solidarietà e la capacità di rendere la parola inclusione qualcosa di ben radicato nella vita di tutti i giorni. Più di 120 volontari che si alternano tutti i giorni nell'aprire la lega, la sede, e mettersi a disposizione di tutte le persone che hanno bisogno di risposte in merito ai diritti espressi e non espressi. I servizi più usati vanno dallo speed, quindi portare le persone a poter essere autonome poi nella ricerca dei propri documenti, a quello che può essere più significativo sono gli sportelli di sostegno. Noi siamo molto contenti di questo presidio che i nostri volontari fanno, li ringraziamo tantissimo per la loro disponibilità e per tutto quanto mettono in campo. Continueremo col prossimo settembre incrementando ancora i servizi dedicati alle necessità individuali. Un momento di festa e convivialità che si è concluso con il taglio di una splendida torta. Al centro il logo dello SPI. Proviamo a stare un po' assieme, divertirci, visto che quest'anno è stato un anno molto teso, molto complicato. I nostri volontari sono quelli che alzano la clera la mattina e l'abbassano la sera in tutte le nostre sedi sindacali. Sono un punto di riferimento, sanno dare risposte adeguate alle persone quando arrivano da noi e credo che è una risorsa indispensabile per tutta l'organizzazione. Guaia se non ci fossero. Il ministro alla disabilità Alessandra Locatelli ha inaugurato a Colico la prima spiaggia per portatori di handicap della provincia di Lecco. La spiaggia che si trova in via Montecchio Nord è stata realizzata su proposta dell'associazione Amici di Claudio in memoria di un sedicenne morto per annegamento insieme ad alcuni volontari della Croce Rossa. La spiaggia è dotata di tutti i dispositivi necessari a consentire alle persone affette da disabilità di farsi un bagno. Presente all'inaugurazione anche il sindaco di Colico Monica Gilardi. Lo scultore del rame Danilo Vitali ha donato 41 opere al suo comune di nascita Bellano. Le opere costituiranno l'esposizione permanente nello spazio San Nicolao. Sono felice e onorato, racconta l'artista, di consegnare l'intera mia opera al mio paese proprio ora che l'arte è stata assunta come cifra identitaria. Mi riempie di emozione tornare nello spazio San Nicolao a dieci anni di distanza dalla mostra La Via del Rame. Ringrazio di cuore Danilo Vitali, commenta il sindaco Antonio Rusconi, che con questo gesto di straordinaria generosità dichiara il suo affetto e il suo legame con Bellano. Non vediamo l'ora di poter nuovamente ammirare la Via del Rame a San Nicolao. Proseguiamo con le notizie questa volta dalla redazione di Monza. Il comune di Monza ha stanziato un milione di euro per far fronte ai primi interventi di ripristino dei danni causati dal maltempo. C'è ancora molto da fare per tornare alla normalità, spiega il sindaco. Il 22 e 23 ottobre Brianzoli ha il voto per scegliere chi prenderà il seggio di Silvio Berlusconi in Senato. Il radicale Marco Cappato si candida. Sfiderà l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. Filippo Tortu torna a volare. Il velocista Brianzolo ha vinto la finale dei 200 metri dei campionati italiani assoluti di Molfetta. Un risultato che fa ben sperare in vista dei mondiali di Budapest e delle Olimpiadi di Parigi. E adesso vediamo insieme il sindaco piloto sul maltempo. La giunta di Monza ha approvato un prelievo dal fondo di riserva e dal fondo rischi per un totale di un milione di euro per far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la città. 300.000 euro sono stati destinati al ripristino del verde e al territorio, 200.000 alla viabilità e alle infrastrutture stradali, 100.000 alla polizia locale, 400.000 alle necessità dell'ufficio tecnico. Tra i maggiori danni riscontrati si segnala lo scoperchiamento del tetto nel centro civico di Via Silva, il danneggiamento di alcune case comunali in Via Giotto, alcuni problemi registrati alle palestre scolastiche. Nel frattempo sono ancora in corso le attività di rimozione delle piante cadute e dei rami nei giardini pubblici e negli spazi verdi. È tornato agibile il cimitero di San Fruttuoso, mentre la ricognizione da parte degli agronomi nel cimitero urbano è riscontrata ancora problemi significativi che non ne consentono l'agibilità. Continua intanto il controllo dei giardini pubblici, che saranno progressivamente riaperti in questi giorni. Restano chiusi i giardini reali della villa, mentre il parco di Monza è regolarmente aperto con ingresso alla porta Monza e porta Villa Santa. Quanto alle abitazioni private, non appena il governo stanzierà le somme eventualmente destinate allo stato di emergenza, saranno pubblicate online sul sito del Comune. Le schede puntuali di ricognizione destinate ai soggetti privati con le necessarie istruzioni per la compilazione. Ci vorranno ancora alcune settimane per tornare alla normalità, spiega il sindaco in un videomessaggio rivolto ai cittadini sui social. C'è ancora molto da fare. In città per riportare in ordine completo pulizia, rimonda, ordine totale, stimiamo che ci vogliano ancora alcune settimane. Nel parco probabilmente il lavoro di fino, il lavoro di pulizia e asporto di tutto il materiale sarà molto più lungo. Anche perché la parte nord della città, al confine con Biassono per intendersi, è stata investita da una forza ancora maggiore del resto. In questo momento l'amministrazione ha fatto anche alcune scelte importanti a puntista gestionale. Abbiamo fatto un prelievo di un milione di euro dal fondo di riserve rischi per garantire le spese di somme urgenze, le spese necessarie. Io dico alla città, proseguiamo in questo modo, seriamente, serenamente, possibilmente senza polemiche. Incidente ieri alle 21.30 in Viale Cesare Battisti all'intersezione con Via Boito a Monza. Due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen T-Cross si sono scontrate frontalmente. Gli occupanti della Panda, due 45 anni di Muggio, sono rimasti feriti e trasportati al San Gerardo. Le loro condizioni non sono gravi. Il conducente dell'altro veicolo, un quarantenne Brianzolo, si è dato alla fuga senza prestare loro soccorso. Le indagini della polizia locale hanno permesso di rintracciarlo e identificarlo. È stato denunciato. Ma la Movida, controlli dei carabinieri a bimercate. Sotto la lente i locali del centro storico e le vie adiacenti ai luoghi della Movida, in particolare il quadrilatero dell'area Ex Bassetti, sottoposti a verifica 20 veicoli, 3 esercizi commerciali e 70 persone. Il cane antidroga Mitch ha fiutato 4 grammi di hashish nella tasca dei pantaloni di un 23enne e altre due dosi nella fioriera di un locale. Ritirata la patente ha un 27enne perché è fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. E adesso andiamo avanti con i servizi. Un radicale sfida al presidente del Monza, Adriano Cagliani. Si delinea il quadro in vista delle prossime elezioni supplettive in programma a ottobre a Monza. Si tratta delle consultazioni per eleggere chi prenderà il seggio di Silvio Berlusconi, eletto al Senato per il centrodestra alle ultime politiche nel collegio di Monza, e scomparso lo scorso 12 giugno. Se nel centrodestra è data per scontata la candidatura del presidente del Monza, nel centro-sinistra non c'è ancora un nome certo. Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, si è allora messo a disposizione. Ci ho pensato molto in questi giorni. Ho deciso di candidarmi per il Senato. È il seggio di Monza e Brianza, dove sono cresciuto, il collegio dove era stato eletto Silvio Berlusconi. Penso che sia importante portare in Parlamento temi e battaglie che oggi sono a rischio e che riguardano la vita delle persone, la vita della democrazia, anche del pianeta. Per questo ho deciso di candidarmi e se pensi che sia una buona idea, se pensate che sia una buona idea, contattatemi, scrivetemi. Ho bisogno di una mano, naturalmente. Resta da capire quali forze politiche appoggeranno la sua candidatura alle ultime consultazioni. Il centro-sinistra aveva ottenuto il 32% dei voti. A partire dal 1 agosto, Piazza Roma a Brugherio riapre al transito veicolare, interrompendo dopo tre anni la totale pedonalizzazione dell'area. Era una delle decisioni che la nuova giunta Assi aveva promesso in campagna elettorale di voler adottare, per rompere con il passato della precedente amministrazione troiano, l'accesso dei veicoli a motore torna così a essere libero dal lunedì fino alle 13 del sabato, per poi tornare a essere soltanto pedonale, così come in occasione di eventi e manifestazioni. Negli orari ad accesso libero sarà consentito anche il parcheggio, con discorario di 60 minuti all'interno degli stalli. Una decisione che, come annuncia l'assessore alla polizia locale, Mariele Benzi, sarà accompagnata dall'apertura del parco di Villa Fiorita fino alle 23. La scelta va quindi in decisa controtendenza rispetto alla pedonalizzazione che la giunta troiano aveva portata avanti in un'ottica di maggior vivibilità del centro. Da sempre contrari però il nuovo sindaco Assi e il centrodestra che avevano visto questa decisione come troppo penalizzante per il commercio e la viabilità locale. Tanti gli scontri di pareri anche tra l'opinione pubblica e i sui social, ma ora la palla è passata alla politica e alla nuova giunta di Brugherio che ha deciso di cambiare direzione rispetto a quanto fatto negli scorsi anni. Terminato il ritiro a Ponte di Legno, il Monza è tornato in Brianza per continuare la preparazione in vista della nuova stagione. Al gruppo si è riunito in questi giorni anche Samuele Vignato, riduce dall'ottima e vincente esperienza con l'Italia Under-19 agli europei di Malta. Continua intanto il calciomercato, con i Brianzoli che hanno messo a segno il quinto acquisto della campagna estiva. Dal Sassuolo arriva in prestito con obbligo di riscatto l'esterno mancino Georgios Chiriakopoulos con il greco che aveva trascorso la seconda parte della scorsa stagione al Bologna. Un arrivo che torna a mettere in dubbio la permanenza di Carlos Augusto, finito nel mirino anche della Juventus oltre che dell'Inter. Finora, Gagliani ha escluso ogni possibilità di addio del brasiliano, ma l'impressione è che il mercato sia ancora lungo e davanti a un'offerta importante potrebbe cadere la resistenza di Biancorossi. Intanto si continua a lavorare per il giovane attaccante dell'Aiduk Spalato, Mate Antunovic. Le parti stanno cercando un accordo, ma bisognerà attendere novità nella prossima settimana. Mentre in attacco, Andrea Petagna sarebbe finito nella lista dei desideri del Cagliari alla ricerca di un sostituto di Lapadula, costretto ai box per i prossimi due mesi. In entrata, il sogno continua a rimanere duvanzapata dell'Atalanta. Intanto prosegue il restyling dello U-Power Stadium che aumenta la propria capienza a 16.917 posti a sedere. Arrivato l'ok dalla Commissione di Vigilanza, dalla prossima stagione saranno resi disponibili alla vendita tutti i seggiolini presenti in Tribuna Ovest e Tribuna Est. I prossimi lavori riguarderanno nuove sale lounge, il miglioramento dell'impianto audio luminoso e l'ampliamento della Tribuna Stampa. E la prima occasione per tornare ad accendere le luci dello stadio di Monza arriverà breve con il trofeo Berlusconi in programma il prossimo 8 agosto contro il Milan. Ed è notizia delle ultime ore il sì al Monza anche dell'ex difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio. Per il 35enne, 268 presenze in Serie A, superata la concorrenza del Genoa. Proseguiamo con lo sport. Filippo Tortu ha vinto la finale dei 200 metri dei campionati italiani assoluti di Molfetta. Il velocista Brian Solo ha dominato la gara distanziando nettamente i suoi avversari e con un tempo di 20 secondi e 14 è arrivato a soli 4 centesimi dal suo record personale. Nonostante alcuni problemi fisici, il 25enne, campione olimpico della staffetta a 4% ai giochi di Tokyo 2020, ha mostrato di aver ritrovato la sua forma migliore. Un risultato che fa ben sperare in vista dei mondiali di Budapest in programma nella seconda metà di agosto e delle Olimpiadi di Parigi 2024. Per questo appuntamento era l'ultima notizia. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.